Ciao Simo! Ciao! Cosa stai facendo? Sto scrivendo i buoni propositi per il nuovo anno. Brava! Io devo ancora pensarci ai miei! Guarda che tu resti indietro e noi ti superiamo, eh? Hai ragione, devo mettermi di impegno. Sai che faccio? Ora per ispirarmi mi preparo una prelibatezza che a te stupirà, ma per me sarà una fonte di ispirazione. State a vedere! Ciao amici! L'inverno è freddo, però a me piace tantissimo per due motivi. Uno, perché io sono cresciuta a Cortina e l'inverno mi ricorda le mie montagne, le Dolomiti. Due, perché in inverno ci possiamo gratificare con delle bontà dolci e golose e anche calde. E poi arriva il Natale! Scusa, a parte che queste sono tre cose e poi... ma tu non dici sempre che non mangi dolci? Le rispondete voi amici? Chi mi segue lo sa, io non mangio zucchero bianco, ma se si parla di dolci sani, come dire di no? Tra poco condividerò con voi una ricettina spettacolare, a dir poco perfetta per coccolarci nelle fredde giornate invernali, da goderci da soli o in compagnia. E come dicevo, a me aiuta a concentrarmi, gustare il momento e riflettere sui buoni propositi per il nuovo anno che arriva. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. La ricetta di oggi è una cioccolata calda con poche calorie e un tocco di gusto, ha il sapore di marzapane ed è anche proteica. Ci metti dentro una fettina d'arrosto? Ma no, che schifo! Ci metto i prodotti sani e proteici della Foodspring che sponsorizza il video di oggi. In particolare questo, lo shape shake gusto marzipan, marzapane, perfetto per l'atmosfera del periodo natalizio e anche dopo, anche il tappo rosso. Ecco gli ingredienti per la mia cioccolata calda proteica. 200 ml di latte di mandorla non zuccherato, 50 ml di acqua, 30 grammi di shape shake marzipan, 10 grammi di cacao amaro in polvere e per dolcificare in modo naturale con pochissime calorie, due gocce di stevia. Io uso questa sempre della Foodspring. A piacere una bacca di anice stellato, un bastoncino di cannella o cannella in polvere. Io uso il latte di mandorla al posto del latte di mucca e la stevia al posto dello zucchero bianco, così la ricettina resta golosa ma light e diventa cremosa senza senso di colpa. E ha solo 170 calorie per tazza, meglio di così per una cioccolata calda. Per chi non lo conosce, shape shake, questo al gusto di cannella, è una delizia proteica che si usa per fare frullati e smoothie, cremosi e light. Per saperne di più e vedere altre ricettine con gli shape shake andate a vedere questo video. E per seguire tutte le mie nuove uscite iscrivetevi al canale, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Bene e adesso mi faccio questa meravigliosa cioccolata calda, prepararla è facile come piace a me, è velocissimo. Nello shaker versare il latte, l'acqua, il cacao, la stevia e lo shape shake. Poi basta chiudere e shakerare. Se vogliamo una cioccolata calda, come piace a me, è coccolosa, basta scaldarla in un pentolino per qualche minuto, poi la versiamo nella tazza e la guarniamo come più ci fa piacere. Ora vado in salotto a bermi questa delizia, ma seguitemi perché il video continua, non è finita qui. Volevo fare un annuncio per chi è nuovo sul canale e anche un promemoria per chi mi segue sempre. Di video in video vi sto dicendo come mangiare in modo sano, con gusto, con prodotti efficaci, sicuri, di qualità e sempre al prezzo giusto. Amiche, in tante mi scrivete che volete stare bene, tonificarvi, rinforzare i muscoli qui sotto e stare in forma senza rinunciare al gusto. E voi amici mi dite che volete stare in forma, fare i muscoli e migliorare le performance in modo naturale. E io ho preparato per voi una serie di ricette trendy e sane come questa cioccolata proteica. E poi guardate, qui ho anche le praline, le palline di cioccolato al cocco dello scorso video e anche questo muffin senza glutine, tutto fatto con i prodotti proteici della Foodspring. Sono perfetti per merenda, per un tè a casa, con le amiche o per fare un figurone se invitate qualcuno di speciale. preparate queste delizie, così loro non potranno resistere, voi sarete smart e le ricette saranno amiche della linea. mi piace. E anche a me. Che delizia! Grazie Simo, quante idee! E i tuoi buoni propositi per il nuovo anno? Ma con questa ricarica mi sono proprio ispirata. Voglio mangiare ancora meglio e volermi ancora più bene. Così sarà un anno pieno di salute ed energia per fare le cose che mi piacciono, non solo per lavorare. Ma che fai? Scrivi buoni propositi sullo smartphone? Certo, lo sai che io sono tecnologica e la Foodspring per me è un ottimo alleato. Anche noi lo vogliamo questo alleato. Dimmi, dove troviamo lo Shapeshake? Trovate Shapeshake Gusto Marzapane nell'edizione limitata per Natale di questa Christmas Box. Insieme allo Shapeshake Gusto Cannella e a questo shaker di Natale carinissimo. Ecco qua, che meraviglia! Meraviglia! Potete scegliere tra due versioni. Per il controllo del peso con Shapeshake oppure per fare muscoli con le proteine in polvere. La stessa ricetta, la cioccolata calda, la potete fare anche con le proteine in polvere della Foodspring, sempre gusto Marzipan. La differenza è che lo Shapeshake è un po' più cremoso. Ora, condividete questo video con i vostri amici, così anche loro quest'inverno salveranno la linea e il gusto. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ciao! Ciao!